Ciao a tutti amici e benvenuti in questo canale del tutto normale. O forse no. Io sono Chiara. Fin da piccolo ho sentito la necessità di condividere con il mondo le mie avventure, ordinari o straordinari che siano. Così è nato il canale Chiarspace. Non solo mio, ma il nostro spazio. Perché se c'è una cosa che mi piace fare più di raccontare le mie storie e avventure, è quella di ascoltarne e condividerne altre. Mi piace pensare che ognuno di noi sia originale a modo suo e che ogni storia, nonostante possa sembrare semplice e banale, abbia una magia tutta propria. E poi, chi può dire cosa sia la normalità? Siamo un po' tutti fuori dagli schemi, secondo me. Sono convinta del fatto che, in ogni vita ordinaria, esistono momenti di ordinaria pazzia. E spero che voi abbiate piacere a seguirmi nei miei e a condividere i vostri con me.